Ora, in questa inchiesta sono coinvolti Passariello di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni non ha detto una parola, parlano di patria, di bandiera, di legalità, parlano del passato, della sicurezza, non ha detto una parola sul suo consigliere regionale indagato, che è presidente della commissione che doveva controllare le partecipate, si è visto come le controllava. In questa inchiesta sono coinvolti Roberto De Luca, che è il figlio di Vincenzo De Luca, e Bonavitacola, che è il vicepresidente di De Luca. Non possiamo credere che questo presidente De Luca fosse del tutto inconsapevole di questa storia, è impossibile, perché sono coinvolti i suoi figli ed è coinvolto il suo vice. Allora, la giunta regionale campana deve andare a casa, anche perché è inquinata la giunta ed è inquinata anche l'opposizione della regione campania. Ma soprattutto io non ho sentito Gentiloni, Renzi, Berlusconi, Meloni dire una sola parola su questa vicenda. Le uniche cose che hanno saputo dire Renzi e gli altri è che i giornalisti di Fanpage dovranno dimostrare la loro innocenza. Ma di che stiamo parlando? Questi hanno fatto un'inchiesta perché voi non avete mai istituito l'agente provocatore, perché l'agente sotto copertura per i reati di corruzione doveva servire proprio a questo, a portare una mazzetta e vedere se il politico la prendeva. Se la prendeva era finita, ma bastava farla prendere ad uno e poi tutti gli altri non l'avrebbero mai presa, perché non avrebbero più fatto distinzione tra corruttori e agenti sotto copertura che fingevano di essere corruttori.